Buonasera, benvenuti a 12 Porte, settimanale di informazione della Chiesa di Bologna. Questa sera una puntata con un'ampia parte dedicata alla beatificazione, come è comprensibile, di Giovanni Paolo II. Domenica scorsa c'è stata la grande cerimonia che avete potuto seguire in diretta televisiva da Roma. Migliaia i bolognesi che si sono recati nella città eterna per la celebrazione in piazza San Pietro, in Vaticano. Un gigante che con la sua testimonianza di fede, di amore e di coraggio apostolico, accompagnata da una grande carica umana, ha aiutato i cristiani di tutto il mondo a non avere paura di dirsi cristiani, di appartenere alla Chiesa, di parlare del Vangelo. E questo è il pensiero centrale che Benedetto XVI ha dedicato a Giovanni Paolo II durante l'Omelia della Messa, con la quale domenica mattina, come dicevamo, il Papa ha solennemente proclamato beato il suo predecessore di fronte a più di un milione e mezzo di persone. Tra i concelebranti ricordiamo dalla nostra diocesi la presenza del Cardinale Carlo Caffarra e del Cardinale Giacomo Biffi. Vi vediamo.